Difendere l'Italia e gli italiani in sede europea grazie ad una delegazione compatta di Forza Italia. E' questo l'obiettivo che il senatore Francesco Aracri porta a Vicovaro Mandela, tappa del tour elettorale a sostegno di Fabio Armeni per il centro Italia, in vista delle elezioni europee 2014. Rilanciare in sede europea quello che il governo Berlusconi già fece all'epoca, cioè a dire no alle politiche di recessione, ai famosi 3%, fiscal compact, e quel no fatto da Berlusconi in sede europea fu il motivo vero per il quale Berlusconi fu mandato a casa. A tal riguardo ricordarsi quello che ha detto qualche giorno fa il ministro degli esteri, dell'allora ministro del tesoro dell'amministrazione Obama, e per chi non fosse convinto leggersi il libro di Alan Friedman che spiega con dovizia di particolare perché l'asse tedesco-francese doveva mandare a casa Berlusconi per proseguire nella tutela dei loro interessi in danno dell'Italia. Cristian Martelli, organizzatore dell'evento, ha voluto ricordare l'importanza del voto in un periodo come quello che l'Italia sta vivendo. L'obiettivo è quello sicuramente di far avvicinare la gente in questo periodo di disaffezione politica al voto, perché è importante comunque votare, lo dico chiaramente, al di là ovviamente del candidato nostro che è Fabio Armeni, ma la cosa importante è esprimere la preferenza, come ho detto anche prima nell'intervento che ho fatto con la gente, è una delle poche elezioni insieme alle comunali, alle regionali, dove l'elettore può scegliere il candidato, quindi esprimere la propria preferenza. Quindi dico a tutti, anche coloro che sono... Votate chi vi pare, però andate a votare perché è la cosa più importante. Giovanni Scarabotti, sindaco di Mandela. Ci stiamo prodigando per dare una mano a livello europeo, anche perché soltanto l'Europa può portare qualcosa di innovativo e soprattutto soltanto in Europa ci sono risorse e noi ne abbiamo profondamente bisogno.